Persi. Per un singolo esaltante minuto, Persi ebbe la sensazione di vincere. Vortice falciava le arai come se fossero fatte di zucchero a velo. Molte, colte dal panico, andarono a schiantarsi contro gli alberi. Altre strillarono e tentarono di volare via, ma Persi tagliò loro le ali, scaventandole giù nel baratro. Ogni volta che un demone si disintegrava, Persi percepiva una sensazione di terrore sempre più forte, perché riceveva un'altra maledizione. Alcune erano dure e dolorose. Una pugnalata nello stomaco, un bruciore intenso come se una fiamma ossidrica lo ferisse. Altre erano delicate. Un brivido nel sangue. Un tic incontrollabile all'occhio destro. No, sul serio, chi è che, esalando l'ultimo respiro, ti maledice con uno «spero che ti venga un tic a un occhio». Persi era consapevole di aver ucciso tanti mostri, ma non aveva mai considerato la faccenda dal loro punto di vista. In quel momento, tutta la sofferenza, la rabbia e l'amarezza che avevano provato si stavano riversando su di lui, prosciugandogli le forze. Gli arai continuavano ad arrivare. Ogni volta che Persi ne abbatteva una, ne comparivano altre sei. Il braccio con cui impugnava la spada si stava stancando. Provava dolore in tutto il corpo, la vista gli si era offuscata. Tentò di aprirsi un varco verso Annabeth, ma lei era sempre fuori portata e continuava a gridare il suo nome, vagando fra le arai. Mentre Persi le si avvicinava a Tentoni, un demone balzò e gli affondò le zanne nella coscia. Lui urlò. Disintegrò la creatura con un solo colpo di spada, ma poi crollò in ginocchio. La bocca gli bruciava più di quando aveva trangugiato l'acqua di fuoco del flegetonte. Si piegò in due, scosso dai brividi e dai conati di vomito, come se una decina di serpenti infuocati gli si stessero insinuando nell'esofago. «Questa è la maledizione di Finea! Una morte straordinariamente dolorosa!» disse la voce delle arai. Persi tentò di parlare, ma era come se qualcuno gli avesse passato la lingua nel microonde. Gli tornò in mente il vecchio re cieco che a Portland dava la caccia alle arpie con un tosaerba. Persi gli aveva lanciato una sfida e il re, sconfitto, aveva bevuto una fiala letale di sangue di gorgone. Non ricordava che il vecchio cieco gli avesse scagliato una maledizione, ma probabilmente non gli aveva augurato una vita lunga e felice, mentre si dissolveva e tornava negli inferi. Dopo quella vittoria, Gea aveva monito il figlio di Poseidone. «Non sfidare la sorte! Quando arriverà la tua ora, ti assicuro che la tua morte sarà molto più straziante di quella provocata dal sangue della gorgone!» E adesso? Persi si trovava nel tartaro e stava morendo per il sangue della gorgone e per una decina di altre strazianti maledizioni, mentre Annabeth barcollava inerme davanti ai suoi occhi, cieca e convinta che lui l'avesse abbandonata. Persi afferrò vortice. Dalle nocche della mano cominciò a salire vapore. Un fumo bianco gli si sprigionò dagli avambracci. «Non morirò così!» si disse. Non solo perché era doloroso e patetico e disonorevole, ma per Annabeth. Morto lui, i demoni avrebbero rivolto la loro attenzione su di lei. Non poteva lasciarla sola. Le arai gli si accalcarono intorno, ridacchiando e similando. «La testa gli esploderà per prima?» ipotizzò la voce. «No!» replicò la stessa voce da un'altra direzione. «Brucerà tutto in una volta!» Scommettevano su come sarebbe morto. Sul tipo di traccia che avrebbe lasciato per terra. «Bob, ho bisogno di te!» gracchiò Persi. Una supplica senza speranza. Perché mai Bob avrebbe dovuto rispondere di nuovo al suo appello? Il titano adesso sapeva la verità. Il semidio non era suo amico. Persi sollevò gli occhi un'ultima volta. Tutto intorno a lui sembrava tremolare. Il cielo ribollì e la terra si ricoprì di vesciche. Si rese conto che quanto vedeva del tartaro era solo una versione annacquata del vero orrore, quello che il suo cervello da semidio poteva gestire. La parte peggiore era velata, nello stesso modo in cui la foschia velava i mostri alla vista dei mortali. E ora che stava morendo cominciava a capire la verità. L'aria era l'alito del tartaro. Tutti quei mostri erano semplicemente cellule del sangue che circolavano attraverso il corpo. Tutto quello che Persi vedeva era un sogno nella mente dell'oscuro dio dell'abisso. Doveva essere questa la visione che Nico aveva avuto del tartaro e per poco non l'aveva fatto impazzire. Nico, una delle tante persone che Persi non aveva trattato come avrebbe dovuto. Lui e Annabeth erano arrivati fin lì, solo perché Nico di Angelo si era comportato come un vero amico di Bob. «Vedi l'orrore dell'abisso?» domandarono le Arai in tono sua dente. «Arrenditi, Persi Jackson! Non è meglio morire che sopportare questo posto?» «Mi dispiace», mormorò Persi. «Si scusa!» strillarono soddisfatte le Arai. «Si pente della sua vita fallimentare, dei suoi delitti contro i figli del tartaro!» «No!» disse Persi. «Mi dispiace, Bob! Avrei dovuto essere sincero con te! Ti prego, perdonami! Proteggi Annabeth!» Non si aspettava che Bob lo ascoltasse né che gliene importasse qualcosa, ma gli sembrava giusto togliersi quel peso dalla coscienza. Non poteva biasimare nessuno per i propri guai, né gli dèi né Bob. Non poteva biasimare neppure Calipso, la ragazza che aveva abbandonato da sola su quell'isola. Forse nel tempo lei aveva coltivato il rancore e maledetto la ragazza di Persi per disperazione. Eppure, Persi avrebbe dovuto continuare a occuparsi di Calipso, assicurarsi che gli dèi la tirassero fuori dall'esilio a Ogigia, come avevano promesso. Persi non l'aveva trattata meglio di come aveva trattato Bob. Non aveva nemmeno ripensato spesso a lei, anche se la pianta di trina di luna che gli aveva regalato fioriva ancora sul davanzare di sua madre. Dovette fare appello a tutta la forza che gli era rimasta, però si rimise in piedi. Emanava vapore da tutto il corpo. Le gambe gli tremavano, le viscere gli ribollivano come un vulcano. Ma almeno sarebbe morto combattendo. Sollevò in alto vortice. Ma prima che riuscisse a sferrare un colpo, tutte le erai che aveva di fronte esplosero, riducendosi in polvere.